Ha deciso di declinare l'invito l'ex presidente dell'Arezzo, Piero Mancini, la cui presenza era prevista nella serata organizzata da Rizzo Fiere e dal Museo Amaranto, nel corso della quale Mancini doveva essere premiato nella cosiddetta Hall of Fame. E' lo stesso Piero Mancini in un comunicato che è stato diffuso alle redazioni da Paolo Cangi del Melograno Sport Agency. Il comunicato recita così. Sono estremamente onorato, dice Piero Mancini, per essere stato inserito nella Hall of Fame del club e per questo ringrazio sentitamente gli organizzatori. Gli anni dal 2000 al 2010 sono stati ricchi di emozioni e soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo che personale. Ricordo con emozione la promozione in Serie B nella stagione 2003-2004 e la vittoria di Supercoppa di Lega Serie C. Nonché tutti i professionisti che si sono avvicendati negli anni della mia gestione, tra i quali in particolar modo mi fa piacere evidenziare Antonio Conte e Maurizio Sarri, che oggi rappresentano due degli allenatori maggiormente affermati e vincenti nel panorama calcistico internazionale. Mi premi inoltre sottolineare Conte e Mancini come a prescindere dai presidenti, dai giocatori e dagli allenatori. Ciò che ha contribuito maggiormente ai successi dell'Arezzo è stato il tifo caloroso della Curva Sud che non è mai venuto a mancare sotto la mia gestione. Purtro che essendo onorato ho deciso di declinare l'invito rivoltomi per non alimentare inutili polemiche che andrebbero solamente a rovinare la bellissima festa che Arezzo e gli Aretini meritano firmato Piero Mancini. Dunque la forte presa di posizione della Curva Sud della Rominghelli che aveva annunciato di disertare la serata proprio per questo premio che sarebbe stato consegnato a Mancini, Curva Sud che era estremamente contraria soprattutto per il finale dell'area Mancini con il fallimento dell'Arezzo poi diventato Ardesia. Una presa di posizione che dunque ha innescato questa decisione di Piero Mancini di declinare l'invito e quindi di non partecipare alla serata in cui sarebbe stato premiato.